Rappresentano l'aspetto della festa di Santa Margherita, forse però in quest'anno la presenza delle bancarelle acquista un risvolto nuovo e se vogliamo di speranza. Costituisce infatti un graduale ritorno verso la normalità, dopo che la pandemia aveva costretto a sospendere e rinviare nei mesi scorsi le occasioni di ritrovo un po' dappertutto. Il vento, quassù in cima alla collina, non ha scoraggiato chi ha voluto sostare per qualche minuto all'esterno della basilica. Il rito religioso quindi si è unito a un momento ulteriore di convivialità, in chiave civile. Cortona torna a celebrare Santa Margherita quasi in una situazione di normalità. Sì, come possiamo vedere è una situazione di normalità, pur rispettando i protocolli covid, le normative, comunque siamo molto soddisfatti, tantissima gente, quindi la patrona ancora una volta ci sta aiutando. Che cosa rappresenta Santa Margherita per Cortona, per la popolazione di Cortona? Ma per la nostra comunità e la nostra Santa rappresenta tutto, quindi anche l'unione tra chi non ha le stesse idee, comunque tuttavia la Santa ci unisce perché la fede ci porta a questo. Può essere un modo per ritrovarsi tutti insieme, per superare anche le polemiche di ogni giorno? Io credo che le polemiche debbano essere superate, non servono a nulla, anzi bisogna collaborare, contribuire. La critica è giusta, basta che sia una critica costruttiva e non una critica che serve solo a dividere, che non abbiamo bisogno di questo.